Dopo anni di stop causa pandemia, torna presso l'aeroporto del Migliaro di Cremona all'evento Cielo Senza Barriere, una giornata dedicata ai ragazzi con disabilità che grazie alla cooperativa Agropolis hanno provato l'ebbrezza del volo assistito all'evoluzione in cielo di piloti esperti con alcuni degli aerei storici presenti nell'aeroporto. È un'iniziativa importante e anche impegnativa come organizzazione, però questa ci consente di veramente far felici un po' di persone che ne hanno bisogno. La trenerina è uguale per tutti e infatti quando uno sale su un aereo, non a caso si chiama Cielo Senza Barriere, là in cielo non ci sono barriere oppure ci sono per tutti. Ci sono dei ragazzi che vorrebbero provare, vorrebbero lanciarsi, ma la famiglia ha paura e anche questo è un altro limite, il non permettere a loro di fare esperienze, di stare con gli altri e di vivere la vita con autodeterminazione come facciamo tutti noi e questa è un'altra barriera da abbattere, molto convinta di questo, sì.